È un'iniziativa nata dieci anni fa per evidenziare il rapporto tra urbanizzazione e patologie croniche, soprattutto per promuovere uno stile di vita sano che prevenga le patologie non trasmissibili. Stiamo parlando di Cities Changing Diabetes, un'iniziativa supportata da Novo Nordis che oggi è arrivata a coinvolgere 24 paesi. Qui a Roma, presso la Fondazione Don Sturzo, sono stati celebrati i primi dieci anni di attività. Questo progetto è importante, è un progetto che festeggia dieci anni ma che ha uno sguardo verso il futuro, dove vengono coinvolte le città, vengono coinvolte le istituzioni, il privato, e quindi abbiamo dei privati importanti conosciuti a livello mondiale che sono venuti in Italia a investire, ma soprattutto dove il pubblico deve essere altrettanto protagonista. Se noi avremo la forza di mettere insieme privato, pubblico e istituzioni e le città, avremo fatto bingo, avremo fatto sì che le città saranno punto di partenza e punto di riferimento per la salute dei nostri cittadini. È un progetto molto importante perché in qualche modo eleva il dibattito che c'è stato fino ad oggi sul tema della salute nelle città e mette insieme chi si occupa di salute e chi si occupa di città. È chiaro che la prevenzione primaria oggi non si fa soltanto nelle scuole, non si fa solo con la cura delle malattie, ma si fa soprattutto utilizzando bene la città, praticando attività fisica all'aperto, spostandosi a piedi con mezzi sostenibili. Quindi l'idea è quella di trasformare la nostra città in futuro perché queste possano più facilmente stimolare le persone attraverso queste buone pratiche a fare prevenzione primaria e quindi a vivere meglio gli ultimi 20 anni della loro vita.